Proseguire spediti con la terza dose per rafforzare e stabilizzare la copertura è uno degli obiettivi dell'area Vasta 1 che sotto la direzione di Romeo Magnoni prosegue la campagna vaccinale su più fronti. Secondo i dati pubblicati questa mattina dalla Regione, nelle Marche la terza dose è stata somministrata a più di 53.400 persone, di cui circa 9.000 nella provincia di Pesero e Urbino. Cerchiamo in tutti i modi di favorire questa campagna vaccinale continuando a vaccinare all'interno dei nostri PVP, continuiamo a mantenere anche i camper e chiaramente confidiamo nella buona volontà di tutta la popolazione nel cercare di completare la prima dose di vaccino e chi ha già fatto la prima dose di vaccino di continuare anche con la terza dose. Perché visto che la pandemia, come dirà poi il dottor Carlotti, in qualche modo sta riprendendo, tant'è vero che abbiamo dovuto riaprire, stiamo riaprendo anche la struttura di Galantara per i pazienti Covid positivi. Il dottore si è esposto in un secondo, spiegherà anche questo, quindi cerchiamo tutti insieme di favorire questa benedetta vaccinazione. Poi se arriverà il farmaco, come tutti stanno auspicando il nuovo farmaco per curare in maniera acuta la patologia, ben venga, ma è un mezzo in più che abbiamo a disposizione. Dottore, qual è la situazione epidemiologica in area vasta? Registriamo una risalita, anche se non troppo preoccupante, dei casi di positività. Oggi, dall'estrazione mattutina, in regione risultano 300 nuovi casi di positività per Covid-19, dei quali 92 nell'area vasta 1. Quindi la risalita in effetti sussiste e riguarda tutte le fasce d'età in maniera più o meno omogenea. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione ha poi illustrato i dati odierni riguardanti l'andamento dell'occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda l'area medica è ancora al di sotto della soglia, ampiamente al di sotto della soglia del 15%, è sotto la soglia del 10%, mentre in terapia intensiva ci stiamo avvicinando alla soglia del 10%. Segnalo anche, forse la stiamo leggermente superando. Problematica inoltre, la situazione registrata nelle scuole dove ora, in base alle nuove norme, la quarantena per tutti scatta con tre positivi in classe. Abbiamo 18 classi in quarantena, per un totale ad oggi di 413 alunni. Si tratta prevalentemente di classi di scuola primaria, quindi elementari, e le altre di stranamente superiore il numero delle scuole secondarie di secondo grado rispetto a quelle di primo grado. Dico stranamente perché ci si aspetta in questa categoria scolastico il numero di vaccinati superiore. Invece in area vasta il tasso di copertura vaccinale nella popolazione, comprendendo tutte le persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, si aggira attorno all'80%. Invece per quanto riguarda la terza dose? Le terze dose stanno procedendo, anche se non con una velocità che forse ci eravamo auspicati. Sta procedendo nei PVP e sta procedendo anche con mezzo mobile. Abbiamo iniziato lunedì a Fossombrone, abbiamo fatto circa 100 terze dose in due giorni. Oggi il camper, il cosiddetto camper 1 che provvede a questo tipo di somministrazione, è a Gabicce. Abbiamo a disposizione un secondo camper che utilizzeremo in maniera specifica nelle residenze non ancora coperte dai medici di medicina di base e nei centri diurni. Inizierò personalmente a vaccinare venerdì e lunedì in due residenze che fanno capo al distretto di Fano, Saltara e Fossombrone. La terza dose, cosiddetta addizionale, ha precisato il dottor Carlotti, era stata introdotta principalmente per i pazienti immunodepressi e trapiantati e andava eseguita almeno dopo 28 giorni dalla seconda dose. La cosiddetta dose di richiamo dose booster viene somministrata da almeno sei mesi dalla seconda e prevede attualmente una serie di categorie alle quali prioritariamente viene dedicata a partire dagli ospiti delle residenze protette, dagli operatori sanitari e sociosanitari, dagli ultraottantenni, dagli over 60 e comunque da chi ha più di 18 anni e presenta delle patologie che li rende vulnerabili. Come terza dose sapete che si somministra o una dose completa di vaccino Pfizer o una dose dimezzata di vaccino moderna indipendentemente dalla tipologia di vaccino utilizzata nel ciclo primario. Grazie.